buongiorno a tutti allora anche noi qui su facebook a parlare di teatro e parliamo di questo progetto che si chiama diversimili coma to community un progetto dell'associazione gli amici di luca con tanti partner il teatro aperto teatro deo della teatro compagnia teatro dell'argine l'associazione tempo il diaframma e altri e altri partner è un progetto sostenuto al comune di bologna pon metro ed è un'iniziativa che ormai da più di un anno ci coinvolge coinvolge i laboratori teatrali che di solito facciamo alla casa di risvegli luca denivis tutt'una pubblica dell'azienda us di bologna e che ovviamente negli ultimi mesi causa della pandemia facciamo online e non in presenza e oggi online siamo aperti a voi alla comunità di facebook con i nostri operatori che sono alessandra cortesi e antonella vigilante e augusto acqua buona sono operatori teatrali e antonella è una educatrice ecco il ragionamento che vogliamo fare oggi con voi intanto è affrontare questo tema della pandemia e capire con voi come siete riusciti a mantenere viva e attiva la relazione con le persone che sono qui con noi oggi e cosa avete realizzato con i numerosi video che so che avete prodotto e che obiettivamente è un valore aggiunto molto forte allora con chi cominciamo antonella antonella vigilante allora noi abbiamo iniziato ormai si tratta di un anno perché siamo a distanza ormai da un anno e abbiamo iniziato in realtà con produzioni di video di cui vi parlerà magari poi meglio alessandra io magari mi soffermo un pochino di più su come è stato il mantenere le relazioni in questo periodo così difficile e per noi è stata una grande esigenza quella di sentirci di sentirci ancora uniti per cui anche il nostro percorso insomma lo abbiamo chiamato distanti ma in contatto e è stato in molto importante perché stare chiusi in casa e comunque non poter avere relazioni avere ancora questo spazio all'interno del quale potersi incontrare è stato fondamentale abbiamo iniziato con e quindi tutta la parte della del 2020 abbiamo prodotto video in in autonomia e comunque questo è stato un modo fondamentale per per tenerci in contatto e con l'anno nuovo abbiamo iniziato anche noi a fare attività online con tutte le difficoltà del caso perché comunque anche anche l'anno scorso non siamo siamo non tutti sono avvezzi alle tecnologie alcuni magari hanno una scarsa connessione per cui non è stato semplice né nella prima parte né nella seconda parte ma insomma a forza di insistere a forza di insomma di di aiutarci reciprocamente siamo riusciti e quindi adesso ci vediamo comunque regolarmente tutti lunedì come abbiamo sempre fatto in presenza e continuiamo a portare avanti l'attività ed è veramente un grande piacere ed è un momento aspettato da tutti nel senso che ci vediamo veramente con grande piacere per cui è stato per noi fondamentale perché veramente non poterci vedere o tenerci in contatto sarebbe stato veramente interrompere un po una relazione quindi abbiamo abbiamo notato che anche il non vederci era comunque era comunque una mancanza molto forte per cui l'attività online è stata necessaria alessandra alessandra cortesi allora la faccio un piccolo passo indietro la pandemia ci ha sorpreso mentre stavamo per andare in scena con amlet e darvi dell'avversa fortuna e eravamo in cartellone eravamo veramente tanti molto motivati anche con un svolto gruppo di di nuove leve da un po di tempo uno degli operatori che era aveva condiviso con noi un lungo periodo si era spostata a milano quindi avevamo già un po esperienza di una persona che ci mandava dei video ogni tanto l'inserivamo anche nel contesto di prove un po per mantenere viva questa presenza quando a un certo punto ci siamo trovati a non poterci vedere più in presente ci siamo trovati all'inizio che non eravamo proprio attrezzati per poter sostenere un lavoro online perché comunque si parla di avere dei device non solo di prenderli ma poi cominciare a familiarizzare su come si muovono e avere comunque alle spalle una linea che supporti tutto questo allora la prima risposta è stata se avete voglia ma proprio buttata nel gruppo come una sorta di esperimento facciamo così ogni settimana vi do due tre esercizi e voi mi mandate il video di quello che avete fatto per realizzare l'esercizio abbiamo iniziato che eravamo più o meno una decina e questa cosa soprattutto nel primo lockdown è stato un momento di grande vicinanza perché il primo lockdown ci ha lasciato proprio poveri di attività poveri di relazioni era un momento in cui il confinamento e l'isolamento toccava tutti in maniera quasi inesorabile e quindi questo è stato un momento al quale ci siamo dedicati in maniera incredibile tanto che alla fine abbiamo finito l'esperienza del primo pacchetto dei video che eravamo più o meno 25 26 avevamo in forma volontaria ripreso un po tutto il gruppo abbiamo potuto aprirci per un attimo in presenza e poi è stato un attimo pian piano però questo primo lavoro sui video ci aveva reso un po più esperto a mandare whatsapp a mandare video a familiarizzare con un'immagine di qualcuno che magari ti manca e non è interattiva e quindi abbiamo ripreso abbiamo fatto questo esperimento nuovo dell'online partendo da un momento del gruppo molto importante che è il tisana time cioè un momento di libera associazione dove uno si racconta è abbastanza libero di entrare in relazione non solo di fare esercizi teatrali abbiamo iniziato pianino pianino e adesso insomma ogni lunedì questa è una realtà abbiamo mantenuto però anche l'aspetto dei video perché diciamo che durante il periodo del tisana time che è il momento in piattaforma ci raccontiamo ci ritroviamo e decidiamo insieme su cosa allenarci in video per la volta dopo ecco in questo progetto il tema della sensibilizzazione è un tema molto forte noi prima del lockdown avevamo con alcune scuole come il manzoni aperto una collaborazione che poi ovviamente si è interrotta e ha ripreso online in altre realtà abbiamo anche con la cineteca di bologna con premio luca di nigris fatto l'attività online nei mesi scorsi con le scuole e adesso piano piano stiamo cercando ancora di coinvolgere le scuole so che augusto cabona deve andare via tra poco e quindi vorrei sentire anche un attimo la sua voce rispetto a questo percorso nuovo che avete fatto del teatro e a quello che poi andremo a vedere qui in questo luogo il percorso sicuramente è interessante sempre una riscoperta ritrovare quello che era un'abitudine nel rincontrare le persone nel sentirle vicine con un modo di fare personale un gesto e non è per niente un'esperienza scontata quella di affrontare l'attività di laboratorio in questo modo è uno spazio necessario che fa ritrovare un po di abitudini vecchie soprattutto dalla possibilità di cimentarsi con prove nuove per per proseguire un percorso importante che dura da anni e che è un riferimento ecco mi sento di dire soprattutto questo è un percorso che si apre alle scuole che trova sempre nuovi limiti da superare voglio ricordare che è dal 2003 che nasce questa esperienza teatrale prima ancora che venisse costruita la casa dei risvegli di Guadenigris e quindi è un percorso che poi nella struttura dell'azienda di Bologna si è integrata con l'ambito clinico e ha fatto sia diciamo l'espressività nel laboratorio con aspetti clinici ma anche appunto nel dopo nella sala del durante che in questo momento come sappiamo non ha accesso al pubblico so però che da Giorgia che fate una presentazione particolare del gruppo oggi siete in 14 vogliamo vederla? Vediamo con zoom come funziona. Questa è una presentazione che noi facciamo tutte le volte che ci colleghiamo e sono praticamente le regole e come si usa la piattaforma quindi noi partiamo così quando dobbiamo decidere come entrare sulla piattaforma dobbiamo capire da che dispositivo entriamo quindi dal telefono o dal tablet oppure dal computer da computer si muove il mouse e aprirà una tendina bianca con diversi pulsanti e da tablet a telefono si cliccherà una parte qualsiasi dello schermo e si aprirà sempre la tendina bianca con i vari pulsanti quindi il nostro schermo sarà più o meno così dove questi ommini immaginari saremo noi e sotto i vari pulsantini che noi andremo a spingere il microfono se è bianco vuol dire che è acceso una volta che diventa rosso o comunque scuro il microfono è spento e generalmente facciamo tutti insieme le prove per vedere se riusciamo ad accendere e spegnere il microfono poi si va avanti con la chat uno spazio virtuale dove potremo solo scrivere ma è molto utile quando non si può parlare o quando il microfono non funziona perché a volte anche il microfono fa gli scherzi e non funziona e poi c'è la telecamera la telecamera sempre come il microfono se è bianca è accesa e se è rossa è spenta all'interno delle stanze virtuali abbiamo anche inserito delle regole queste regole sono poche ma semplici una è se non riusciamo ad accendere alla stanza virtuale dobbiamo comunicarlo agli altri abbiamo un gruppo whatsapp dove manderemo un messaggio e comunicheremo a tutto il gruppo che ci sono delle difficoltà o di connessione o di qualunque altro genere abbiamo anche detto che questo è un nostro momento e quindi facciamo finta di essere in presenza cercheremo di essere puntuali e se siamo in ritardo cerchiamo sempre di comunicarlo sempre in quel gruppo di whatsapp in modo che tutti sappiano che comunque stiamo per arrivare e una volta entrati nella stanza comunque capita di doversi assentare tramite un messaggio in chat oppure un'interruzione di qualche secondo comunichiamo che ci dobbiamo assentare una regola molto importante che abbiamo stabilito è di spegnere il microfono nel momento in cui non c'è nulla da dire in modo da non creare confusione e permetterci di sentirci meglio una delle ultime regole è appunto di cercare di mettersi in una stanza silenziosa o con persone però cercando di rimanere comunque in silenzio in modo da non creare rumori di sottofondo o comunque della gran confusione queste più o meno sono le regole che abbiamo deciso tutti insieme che abbiamo applicato in un powerpoint che tutte le volte ripetiamo per ricordarcelo bene un ottimo tutorial per i nostri utenti allora alessandra vogliamo entrare un po nel merito di questi video che avete realizzato mi pare che il primo è sulle poesie su un video poetico in qualche modo sì allora mi arrivavano molti contenuti legati un po a questa difficoltà a stare fermi a stare chiusi a stare soprattutto da chi non era abituato diciamocelo isolati e per coincidenza o forse neanche tanto mi hanno mandato questa poesia che parla di tutte le cose meravigliose che si possono fare anche solo stando fermi è una poesia di mariangela gualtieri e l'abbiamo interpretata cercando di trovare un senso nello stare fermi e respirare e guardarci da lontano stavamo parlando della realizzazione della poesia si può stando fermi muovere una stella si può sai stando qui stando molto fermi sostenere una stella si può dire alla foglia di cadere quando è ora e il frutto pilotarlo alla maturazione si può credi festeggiare ogni onda scandire i fili d'erba e nominare nell'aria il bene spingere il bene alle contrade pacificare spiriti di guerra sostenere la fiamma di ogni focolare nelle cucine piccole del mondo nei tuguri portare la fiammella che trasforma in mangiare i frutti della terra tenere l'acqua nella trasparenza e ferma la montagna senza vacillare grazie a tutti grazie a tutti stando molto fermi si può adorare si può entrare nel dolore di un altro e sollevare asciugare il bucato volare si può far cuore col cuore della terra si può spezzare in infinità l'umana particella di carne scatenare il potenziale atomico che sta in ogni scaglia della nostra pelle festeggiare da lì la presente nostra eternità grazie a tutti stando zitti e fermi è come dire ecco ingravidatemi dirlo alle forze dirlo alle stagioni al cielo alle popolazioni invisibili dei mondi si fa un atto di fede stando fermi si dice credo credo in ciò che non si vede so che non sono sola adesso in questa camera senza nessuno so che nel vuoto apparente c'è una corrente feconda una mano che guida la mia mano una mente di creazione so di non sapere il mistero del mondo e so di preservarlo per la fecondazione di ogni vivente stando molto fermi si crea una fessura perché qualcosa entri e faccia movimento in noi e ci lavori piano come capolavoro da ultimare a cui l'artista ignoto fa un ritocco con ispirazione e quindi vado a mano quasi demente tanto è forte la spinta e delicata la certezza del tocco stando fermi fermi si festeggia la gran potenza che esalta il sole nella sua prestanza e lo depone ad occidente nell'ora stanca quando ognuno guardando prova una leggera indicibile pena e stando fermi la luce entra anche nella più tetra delle notti e l'occhio chiuso può contemplare il buio immenso del corpo dove il respiro entra e si espande e l'aria entra ed esce a lente calme sorsate e l'aria è cielo cielo che viene a noi con particelle di cosmo e antiche polveri fiato di tutto ciò che è stato e del presente e vivo esserci stando molto fermi il pensiero si spande con le sue spire incantate sorge, si gonfia in rivoli e pianure allagate in rovi, in labirinti spaccati catapecchie, greti, radici quadrate ecco il pensiero il divoratore stando fermi lo si può lisciare e pettinare e farlo stare giù steso e sospeso riposto e composto un po' arretrato in sottofondo depotenziato che ci sono no tutto il presente esplode stando fermi il nome si deposita sul fondo il cognome è un aggeggio antiquato nessuno spinge o preme niente sa fretta niente è lontano è finito ciò che è lontano è finito stando fermi e poi si fa concerto col corpo plantare con le sfere celesti col musicale silenzio delle cose stanno più zitte le cose stando fermo resta un palpitare tutto pare risponda a un direttore nascosto non umano silente geniale stessa partitura secolare d'orchestra stando molto fermi anche un cucchiaino con la sua piccola ombra schiacciata sotto porta una dose abbondante di mistero col mondo capovolto nella nicchia anche una tazza un asciugamano un latte una scatola di puntine un libro un vasetto di crema per le mani stando fermi è strana più strana la costellazione di cose sul tavolino la fissità si tende ed è chiaro l'enigma non si scioglierà questo abbiamo fatto acciaio e carta tessiture di fili e di sostanze e questo siamo ultimo abbozzo prima dell'umano qui ci vorrebbe l'applauso noi siamo abituati a farlo così dato che siamo tutti mutati stile lì alla volevo aggiungere due cose rispetto ai video ovviamente i compiti i compiti che davano erano molto semplici e mi arrivava del materiale veramente originale quindi a volte il risultato finale sorprendeva tutti perché si partiva con un'intenzione e c'era un grande affiatamento anche a distanza del gruppo che faceva sì che si trovasse qualcosa di ancora più interessante nel montaggio un'altra cosa che volevo dire che prima claudio stava dicendo tutti uguali nel senso che a un certo punto ci siamo trovati tutti a distanza uguale nessuno riusciva a essere vicino fisicamente però tutto quello che non comporta la vicinanza fisica era rimasto che altro vuole dire qualcosa rispetto a Luca, Mara? Rosa Rosa dire qualcosa rispetto a questo lavoro? io sono forse la meno adatta a parlare perché sono arrivata e praticamente dopo pochissimo è stato chiuso il gruppo il laboratorio in presenza quindi io non me lo sono potuto godere e posso fare poco delle distinzioni dei parallelismi perché purtroppo non l'ho vissuto molto però quello che posso dire è che questo ha continuato ad essere importante nonostante il mezzo così difficile da governare a volte il lavoro ha mantenuto il suo senso che è quello di stare insieme e di giocare in un posto libero libero da giudizi da pregiudizi questo l'ha mantenuto e la possibilità di esprimerci è tutto stato salvato da questo lavoro grazie Rosa il tuo audio è un po' disturbato spero sia soltanto io che comunque ti ho detto delle cose molto belle grazie grazie molto grazie grazie a tutti quanti quasi a tutte le sedute è stato oltre che avere un obiettivo comune e comunque sentirsi nonostante in casa nonostante isolati sentirci comunque uniti tutti quanti insieme poi il lavoro di montaggio di Alessandra il coordinamento di Antonella insomma faceva sì che ci siamo sempre sentiti in compagnia per me in particolar modo era un compito mi dava qualcosa per cui lavorare per cui fare qualcosa di bello di buono potessi esprimere e comunque sentirmi sempre all'interno di un gruppo perché io sono un volontario da 13 anni ormai e per me il gruppo è fondamentale importante quindi era importante continuare a farne parte in questo video particolare che abbiamo visto sulla poesia gli obiettivi quindi i compiti erano quelli di mantenere per un periodo per un certo numero di secondi il respiro sorriso stando fermi no e già questo è bello vedere come la percezione del tempo cambiava da persona a persona ma soprattutto quando io l'ho visto mi sono emozionato molto perché le persone che hanno partecipato a questo video erano persone che non vedevamo da tanto tempo soprattutto ci sono persone che viene dall'estero da Madrid se non dico una cavolata Martina e la voce che che declama la poesia è di un nostro amico attore Davide Lora che non vedevamo penso da non so quanti anni e lui ha subito accettato questa richiesta insomma quindi è bello sentirsi sempre questa rete sentirsi sempre gruppo e sapere che il gruppo comunque c'è anche da lontano siamo vicini grazie Luca Alessandria e Antonella vogliamo mandare anche l'altro video lo vogliamo introdurre? allora io spero che ci permetta Facebook potrebbe esserci una musica che era un po' la musica che caratterizzava quando ci vedevamo una parte iniziale scusa io Alessandra io eviterei perché altre volte mi sono provato ok allora andiamo su warm up allora aspetta allora Alessandra vogliamo introdurre l'altro video che facciamo vedere? sì allora l'idea di questi video era proprio quella di sperimentarsi facendo un po' di attività ma anche guardando il video si poteva fare attività a sua volta infatti questo è dedicato al riscaldamento ognuno ha scelto una parte del corpo che voleva riscaldare ci ha proposto questo video e insieme è diventato una sorta di tutorial per il riscaldamento corporeo quindi lo potremo anche pubblicare chi ha voglia di vederlo e farlo nel contempo è invitato a riscaldarsi insieme a noi grazie a tutti 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 grazie a tutti